Ciao a tutti ragazzi, oggi continueremo a costruire la nostra base segreta con le nostre stanze personalizzate. Oggi faremo la stanza a tema primitivi. E per entrare bisogna andare così. Allora, intanto ho già fatto lo spazio. Cioè ho già messo un po' di roba. Cioè ho già fatto la stanza. Con un bel farò mettiamo i primitivi. Già i primitivi avevamo già scoperto il fuoco. Un po' di torce. Qua stiamo quando c'era già l'uomo o... Ma come si chiamava? O straopiteco? Boh vabbè, scrivete nei commenti. E iniziamo così. Prendiamo... Una bella cassa. Non so se credo che non ci avevano ancora i baudi. Però... Nel dubbio noi prendiamo la cassa. E... Prendiamo un po' di carne. Perché loro hanno... Perché loro fanno la caccia. E' vero, tutti. Anche oggi si fa la caccia. Quindi... Facciamo così. Prendiamo il bauo ozzo. E... Ecco tutta la carne. Eh, tecnicamente avremmo già finito. Ma poi ora devo fare anche un letto. E come facciamo un letto? Soprattutto loro ce l'abbiamo nel letto. Vabbè. Useremo dei tappetini di lana. Perché... Non c'è... Vabbè. Useremo dei tappetini di lana. Perché... Il re sovrano incredibile... Dormiva sui tappeti. Esatto. Lui... Il re dormiva sui tappeti. Abbiamo già finito. Esatto. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.